Nelle magiche acque del Circeo, questo nuotatore con pinne e maschera va a pesca di favole. Dalla riva la moglie aspetta un cenno, bottino grande così. Lo scultore americano Harvey Files trae ispirazione per i soggetti delle sue opere dal materiale che la sorte gli fa trovare lungo i suoi viaggi e le sue ricerche. Ogni suo lavoro, prima di essere forma, motivo plastico, è la storia dell'incontro con una pietra. Ecco Cleopatra, una sacerdotessa, oltre la vita, vichingo. Temi in prevalenza ieratici e simbolici. Ed ecco una pietra desiderosa di tornare al suo male.